Oggi scopriamo un ambiente primaverile adatto alla fruttificazione di alcuni tra i più precoci funghi della stagione entrante del risveglio della natura durante il mese di marzo-aprile infatti in dei boschi lungo le zone di torrente o le zone anche montane con presenza di alberi di noccioli o di grandi alberi per esempio di pioppo bianco anche piuttosto elevati e grandi nella loro maestosità o con la presenza anche di qualche salice solitamente su terreni con matrice sabbiose zone dove permane abbastanza lungo lo strato di umidità si possono trovare i primi funghi della stagione primaverile in particolare le specie del genere verpa che sono simili alle note spugnole funghi del genere morchella con le quale condividono alcuni ambienti di crescita e l'epoca di comparsa primaverile e qui vediamo come ci troviamo in una giornata piovosa in seguito a una serie di giornate fredde di gelate con temperature notturne rigide e addirittura con delle giornate nelle quali si sono sopravvenute delle nevicate molto brevi ma ci sono state delle nevicate anche in questo bosco di pianura e qui vediamo i funghi del genere verpa nella loro fase di sviluppo diciamo quasi oramai terminale quindi comincia ad essere un pochino più avanti la stagione di comparsa di questa specie che si mostrano e fuoriescono dal sottobosco non sono esemplari particolarmente vividi o particolarmente belli nella loro ecologia proprio per il fatto che sono andati incontro a delle condizioni meteorologiche avverse quantomeno non adatte a dei funghi che fruttificano nel sottobosco e che sono delicati come i funghi del genere verpa perché ricordiamoci che li possiamo identificare osservando la mitra che è formata da questo disegno di solcature irregolari che non ricreano né un disegno di un cervello né un disegno di un alveare o di alveoli mitra che è appena appena appoggiata sullo stipite all'apice e basta appena appena dargli un piccolo tocco per distaccarla completamente dal gambo gambo che è di colore bianco o craceo negli esemplari maturi sempre più o craceo e che può presentare una fine prunosità biancastra che è questa e che negli esemplari più maturi questa feltrosità lanosità diventa di colore un pochino più scuro stipite carne del gambo che ricordiamo poi è internamente spugnosa o del tutto cava fungo con odore spermatico commestibile anche buon commestibile da consumare dopo cottura che significa che dobbiamo con questa specie prendere i nostri funghi sani freschi tagliarli metterli in una padella con un po di acqua un goccio di sale e fare andare la cottura senza coperchio fin quando non evapora completamente la loro acqua di vegetazione ma dobbiamo anche avere un'accortezza in più specie nella fase di raccolta quando ci troviamo in una stagione come la primavera che è un periodo nel quale come abbiamo visto il clima può essere ostico può essere particolarmente difficile da interpretare con nevicate alternate giornate di sole intenso anche per gli stessi funghi e qui vediamo infatti degli esemplari di verba bohemica che si sono quasi abortiti nella loro crescita in virtù magari di un eccesso di umidità presente al suolo che si può verificare anche all'atto di questo video che viene svolto in una giornata piovosa consecutivo poi a una giornata fredda magari anche con temperature molto rigide e vediamo che in particolare la mitra di questi funghi primi fuoriusciti dal manto di foglie di pioppi bianchi sembra quasi essere bruciata quindi quando anche raccogliamo questo tipo di funghi nel sottobosco prestiamo attenzione a scegliere quelli che non presentano come questo esemplare ad esempio eccessivi segni di bruciature o rammollimenti della mitra conseguenziali anche a un rammollimento eccessivo dello stipite e qua lo vediamo bene che si è aperto cavo e spugnoso in questa specie questo perché il nostro fungo è oramai in fase già di decomposizione e potrebbe non essere gradevole sia nell'utilizzo gastronomico sia magari anche poterci dare qualche lieve disturbo qui vediamo ancora un esemplare come notiamo protetto dalle foglie di pioppo bianco ma anche lui leggermente patito nella zona della mitra in relazione proprio a queste condizioni climatiche avverse o comunque distanziali tra di loro che si verificano spesso nella stagione primaverile e qui ancora proseguiamo vedendo come la natura fa il suo ciclo fa il suo percorso e verpa boemica gli vada dietro quindi con i funghi che oramai nelle zone più aperte ed esposte di questi ambienti di pianura planiziali lungo i fiumi o anche collinari in zone piane con la presenza di queste essenzie arbore e anche un contemporaneo ristagno di umidità non sempre si presentano nelle migliori delle condizioni già questi esemplari si presentano un pochino più in forma elegante ma anche loro su di loro è evidente il segno sia del tempo quindi hanno già iniziato la loro fase di sviluppo da qualche giorno sia il segno delle condizioni climatiche e delle intemperie quindi la primavera come vediamo in questo caso con i funghi del genere verpa che sono i primi a scomizetti primaverili a spuntare in attesa delle spugnole di altre specie patisce l'eccesso di ristagno umido e contemporaneamente le temperature notturne inferiori ai 4 gradi centigradi qui vediamo un primordio un giovanissimo esemplare di verpa che ancora cerca di farsi largo nel letto di foglie di di pioppo bianco a questo punto però negli stessi ambienti ci può essere la zona e la fascia dove c'è un eccesso di ristagno di umidità ma se iniziamo a muoverci ad osservare con attenzione il sottobosco vista comunque la presenza costante e questi meravigliosi ascomicetti primaverili quindi se andiamo a cercare un punto del bosco dove o il letto di foglie di un'altra essenza arborea o la stessa orografia del suolo quindi l'avvallamento il ripiano o la piccola collinetta boschiva hanno protetto maggiormente i nostri funghi dalla piovosità dal freddo dall'irradiazione solare perché poi a volte anche il sole il calore possono costituire un problema nella stagione primaverile potremo magari trovare a pochi metri di distanza da funghi in fase oramai marcescente ancora qualche giovane esemplare di migliore fattezza qui per esempio ci troviamo sotto un grande salice e andiamo a vedere se c'è qualche verpa che si è mantenuta meglio grazie al letto di foglie che forma che un pochino più spesso quindi magari ha protetto maggiormente dal gelo e dal calore i nostri ascomicetti primaverili in questo caso però la pioggia è stata tanta la neve e le giornate anche fredde sono state piuttosto persistenti e quindi sono ancora pochi gli esemplari che possono essere reputati idonei a un consumo alimentare in sicurezza come questo dove non vediamo assolutamente segni del tempo o di una marcescenza come questo meraviglioso fresco esemplare che fa capolino dal sottobosco quindi nella stagione primaverile andare ad osservare i punti del bosco dove lo strato fogliare protegge maggiormente la fruttificazione sia delle verte e il consiglio vale anche per i funghi del genere morchella può aiutarci a scoprire qualche tardivo esemplare che sceglie di mostrarsi nella sua bellezza verso il termine della stagione